La sicurezza nelle imprese artigiane in Piemonte è il tema del convegno che è stato organizzato qui al campus dalla Fondazione Luigi Einaudi. Già vent'anni fa abbiamo creato un ente importante dove si discutono i problemi della salute, del lavoro, dell'esistenza stessa delle aziende e dei propri dipendenti, parlando di lavoro, parlando di sicurezza, quindi è nato un ente bilaterale composto dalle parti sociali, sia quelli che tutelano un po' le aziende e anche il sistema della tutela dei lavoratori dipendenti, per metterci a trovare un tavolo, capire tutti insieme come si fa, come si deve tutelare la salute, proprio perché nel campo delle imprese artigiane sia il titolare d'azienda sia il suo collaboratore lavorano gomito a gomito, quindi la salute è da tutelare per tutte e due, anche perché c'è problema di farsi male, problema della sicurezza e questo vale per sia il datore di lavoro che anche un lavoratore autonomo e sia il dipendente, quindi è una cosa molto importante dove noi ci riteniamo essere all'avanguardia in Piemonte ma anche in Italia, ci sono 21 enti bilaterali in Italia, regionali. È proprio il campo dell'artigianato che spesso implica lavorazioni a contatto con materiali, quindi con macchinari anche a volte pericolosi. Senz'altro, nel campo dell'artigianato è un discorso diverso dalla catena di montaggio, dalle aziende che hanno migliaia di dipendenti, quindi tutto è organizzato un po' automatico. Qui noi lavoriamo con le mani, lavoriamo con la testa, lavoriamo con i pericoli immediati dell'improvisazione, quindi dobbiamo essere molto prevenuti, molto attenti, molto capaci, molto professionali ed è una roba che ci onora perché anche nelle statistiche il discorso degli infortuni sul lavoro ma anche le malattie professionali noi le abbiamo tutelate da tempo e siamo, diciamo, statisticamente a posto. Gli enti bilaterali appunto cosa chiedono a questo punto e a quali conclusioni siete giunti, seppur provvisoriamente, nell'incontro di oggi? Gli enti bilaterali chiedono la tutela perché sanno di rappresentare un momento importante dove si discutono le vertenze di lavoro, dove c'è non conflitto che pesi sulle collettività, è un discorso unitario, bilaterale, quindi noi i nostri problemi cerchiamo di metterci d'accordo tutti quanti assieme senza pesare sulle collettività, dovevamo essere riconosciuti di più e forse riconosciuti di più. E gli enti bilaterali da chi sono composti? Allora, nel caso dell'artigianato del Piemonte sono composti da sei membri, sei associazioni, di cui due che rappresentano i datori di lavoro, Confartigianato, CNA e Casa, sono emalazioni nazionali e quindi anche emalazioni regionali, e CGL e CISLEWILL per la rappresentanza dei lavoratori. Quindi assieme formiamo il sistema lavoro, il sistema Italia, il sistema che andando d'accordo facciamo delle cose ben fatte senza pesare sulle collettività.